Va ora in onda l'inviato speciale. Campionato nazionale dilettante a cura di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Interviste in diretta e commenti in vista del prossimo campionato di serie D a crattere nazionale con protagonista Il Carboni a calcio 1939. Produzione media Chiocciola Sport Italia TV Publimedia Communications in collaborazione con Radio Luna. Questa è la formazione Mirani, in sicilissimo in attacco, parte tra l'alto di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Ha messo dentro il pallone da due passi, tra l'alto di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. E Meloni, l'attaccante di Nuoro che veste la maglia del Carbonia, ha messo dentro per il vantaggio della formazione Mirani. mii non no lo see, su um blastino. mii non no lo see, mii non no lo see, mii non no lo se, su um labs human. Sì Tu ammita Da un uomo A un uomo A un uomo A un uomo Di lo non lo sei Tu ammita Ma non lo sei Tu ammita Tu ammita Tu ammita Grazie a tutti.